Una riflessione sull'intelligenza artificiale. Se i sistemi apprenderanno sempre più in modo autonomo, saranno in grado di prendere decisioni da soli, avrà senso parlare di integrazione tra il lavoro dell'uomo e quello della macchina? Allora, il lavoro fondamentale delle persone è quello di dare un significato e un senso alle cose. Ecco, la direzione di significato e di senso non può essere demandata alle macchine. Questo aspetto dell'uomo, un aspetto decisivo, nessuna macchina potrà mai sostituirlo. Le macchine, la tecnologia, saranno e svolgeranno il ruolo che hanno sempre svolto le tecnologie nella storia dell'uomo. C'è un potenziamento dell'uomo. Qualsiasi altra vista è una vista che ritengo sbagliata, che ritengo irrealistica, e ritengo anche contraria a un ragionevole sviluppo dell'uomo. Quindi se anche qualcuno la stesse perseguendo, sarebbe una strada da non perseguire. Oggi si parla spesso di una futura perdita di posti di lavoro, di professioni. La macchina prenderà il posto del lavoro dell'uomo. Lei cosa ne pensa? La questione sulla quantità di posti di lavoro e sulla qualità anche dei posti di lavoro è un tema ovviamente piuttosto interessante che ci ha preso in questi ultimi anni e ovviamente ci occuperà anche nei prossimi. La mia personale posizione è la seguente. Da una parte non mi preoccuperei del fatto che alcune tipologie di attività, quelle facilmente automatizzabili perché corrispondono a delle attività che anche le persone stesse non hanno tanto piacere a fare, ben venga che siano automatizzate. Nessuno invidia più alcune attività che oggi sono automatizzate e che una volta erano svolte da operai. Ce ne sono tante altre che ad oggi appartengono a questa categoria, magari non più nelle fabbriche, magari negli uffici. Quindi quel tipo di attività ben venga che siano automatizzate. Lasciamo pure che le persone si occupino di attività più a valore aggiunto, in cui c'è più una dote di creatività, in cui c'è una dote maggiore di costruzione per l'appunto, di senso e di significato. Sono convintissimo che di sfide globali da affrontare ce ne siano talmente tante che di spazio per la creatività dell'uomo ce ne sia in abbondanza. Pensiamo, per fare solo un esempio, al tema dell'invecchiamento della popolazione e della necessità di immaginare sia servizi di supporto alle persone anziane e persone anziane che evidentemente saranno anche in condizioni di salute non ottimale. Quindi tutti i servizi di supporto all'invecchiamento della popolazione insieme con tutta l'evoluzione che deve avere il mondo della medicina per riuscire comunque a rendere le nostre condizioni di salute e di vita ottimali. C'è un'enormità di potenziale in cui giocare la creatività dell'uomo, per cui non mi preoccuperei se alcune delle attività che ci stanno dietro, quelle che all'uomo non piace fare, saranno automatizzate. Chiudiamo con il ricordare gli appuntamenti più significativi in calendario da qui ai prossimi mesi. Bene, mi faccio aiutare da qualche appunto. Allora, gli appuntamenti che nei prossimi mesi avremo come osservatori sono in realtà tantissimi. Ne segnalo tre o quattro che magari possono essere di interesse. Il 18 febbraio prossimo avremo la presentazione dei risultati del nostro osservatorio Smart Home e questo è un ambito interessante in cui vedremo sia la prospettiva delle imprese sia quella dei cittadini. Sempre in questo ambito il 7 aprile avremo l'evento finale dell'osservatorio Internet of Things con una stima complessiva del mercato in Italia e anche una particolare attenzione alle tematiche della fabbrica intelligente e delle smart city. Il 20 febbraio avremo il nostro evento finale dell'osservatorio sull'intelligenza artificiale in cui faremo proprio il punto sullo stato dell'arte, cercheremo anche di vedere quali sono le principali evoluzioni e toccheremo anche alcuni aspetti di interazione fra etica e tecnologia. Oltre a tutti gli osservatori che abbiamo già attivi, per cui poi potrete anche vedere sul nostro sito osservatori.net quali sono gli appuntamenti, segnalo due osservatori nuovi che nascono esattamente nel 2020. Uno è l'osservatorio sul 5G, in cui iniziamo a capire in maniera approfondita e poi lo porteremo avanti evidentemente per tanti anni, quali sono le potenzialità del 5G come strumento di cambiamento dei modelli di business in quasi tutti i comparti. E poi un altro osservatorio, anch'esso di tipo un po' strutturale, che guarda una nuova infrastruttura che è la cosiddetta Space Economy, in cui cerchiamo di capire come l'infrastruttura satellitare che ruota intorno alla Terra può costituire anch'essa un'infrastruttura fondamentale per raccogliere dati e mettere questi dati a disposizione dello sviluppo di tantissime filiere industriali.